Luca Gianpaoletti, Presidente Provinciale del Centro Sportivo Italiano, le attività che proponete nell'ambito di questa Notte Azzurra e più in generale per l'anno sportivo che vi attende? Ok, grazie, buonasera. Allora noi qui alla Notte Azzurra dello sport proponiamo attività di avviamento allo sport per bambini dai 5 anni agli 8 anni e in più il tennis tavolo. Qui a Iesi proponiamo diverse attività sia dai bambini con la psicomotricità dai bambini dai 2-3 anni, poi proseguiamo con l'avviamento allo sport molto importante per qualsiasi disciplina e poi proseguiamo con attività di campionati di calcio a 5, calcio a 7, basket, pallavolo. Queste sono le attività principali. Da un paio di anni abbiamo anche attivato la ginnastica dolce per chi ha qualche anno in più di un bambino. Ecco, queste sono le nostre attività principali. Contatti dove è possibile trovare? Allora, siamo a Iesi presso la segreteria CSI in piazza Federico II, quindi basta andare in piazza Federico II prima della cattedrale oppure tramite telefono 0731 56 508 oppure all'indirizzo email csi.ancona.it Oppure anche su sito internet www.csi.ancona.it o anche Facebook abbiamo una pagina csi.ancona e quindi tranquillamente ci potete trovare.